La nostra regione insieme alla Sicilia, specie in questo periodo, sono la meta principale di approdo delle migliaia di profughi, tra questi molti minori che dall'Africa e dall'Asia partono per ritrovare in Italia e in Europa conforto alle loro preoccupazioni e ripetute privazioni. Per questi motivi nei giorni scorsi in Consiglio regionale su proposta del consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea sono stati approvati all'unanimità due ordini del giorno. Non è più concepibile tollerare questa situazione, commenta la consigliere regionale Giudice Andrea. Proprio per questo ho presentato due ordini del giorno che il Consiglio regionale ha approvato con voto unanime e che danno mandato al governatore Oliverio di indire un tavolo di concertazione con l'Anci e con le prefetture al fine di intraprendere tutte le necessarie misure per organizzare con le amministrazioni che si renderanno disponibili un piano di accoglienza diffusa. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai minori al fine di scongiurare le ripetersi di situazioni come quelle verificate se per esempio in Reggio Calabria che hanno visto ragazzi non ancora maggiorenni trattati in palese violazione dei diritti umani. Pur non essendo la materia di competenza regionale stiamo cercando di trovare il modo per affrontare in maniera organica un problema che viene da troppi anni gestito sulla scia delle emergenze da parte dell'Unione Europea. Non si può più continuare così, prosegue il consigliere regionale. C'è la necessità di far diventare normale l'accoglienza sottraendola allo spirito di straordinarietà con la quale spesso le prefetture autorizzano l'apertura di centri di accoglienza straordinari senza ascoltare le esigenze dei territori che si trovano davanti a scelte non partecipate. Solo con la collaborazione da concertazione tra le istituzioni, conclude giudice Andrea, si può risolvere un problema così serio ed attuale.